Bianca Azei Bianca Azei, Max Biaggi mi ha lasciata, e non so perché è una notizia piuttosto sconcertante quella che ha confidato Bianca Azei al settimanale Chi, Max Biaggi mi ha lasciata, ma non so perché ha detto la trentenne. La sua relazione durata due anni con il centauro sembra al capolinea, ma lei spera in un ritorno. Bianca Azei lasciata da Max Biaggi, e il motivo?. Peggio di essere lasciata dall'uomo che hai amato intensamente per due anni che, di recente, hai assistito con tanto amore al suo capezzale dopo un orribile incidente in moto, c'è solo un'altra cosa, non sapere il motivo. Questo è lo stato di assoluto sconforto che sta vivendo al momento Bianca Azei, la cantante ha confidato tutto il suo dolore al settimanale Chi, che pubblicherà all'intervista sulle sue pagine patinate a partire da domani, 8 novembre. Stando alle parole della cantante, che di recente aveva dedicato al suo lui uno dei suoi brani di successo, Ora esisti solo tu, da palchi di kermesse musicali importanti a livello internazionale, pare che la decisione di porre fine al rapporto sia stata proprio di Max e che sia arrivata come un fulmine a ciel sereno, destabilizzando totalmente le certezze della Azei. Il loro rapporto è sempre stato meraviglioso e sotto gli occhi di tutti, con il sogno, in futuro, di mettere persino su famiglia. Poi, nel giugno scorso, un bruttissimo incidente in cui il motociclista aveva rischiato la vita, l'abbiamo sfangata, si erano detti lui e il padre, consapevoli dei rischi corsi dal pilota. Per fortuna, anche se Max ha dovuto sottoporsi a diversi interventi a causa di un trauma a livello del torace, che gli impediva di respirare correttamente, dopo meno di un mese era di nuovo a casa con la sua bella, a scattarsi foto insieme e a farci sognare sui social. Insomma, nessuno sospettava nulla e nemmeno Bianca. Purtroppo, però, le cose iniziano a non andare molto bene dopo l'estate, visto che l'ultima foto rintracciabile sul profilo Instagram del Centauro risale al 27 settembre. Lo scatto, tra l'altro, è romantico come sempre e proviene da Formentera, dove i due hanno trascorso le vacanze estive in un vero paradiso, proprio come scrive Biaggi nel post. Bianca Balti a chi, la rottura è stato un fulmine a ciel sereno. Non sappiamo che cosa ci sia nella mente di Max Biaggi in questo momento, anche se seguendolo su social notiamo scatti insieme ai figli avuti dalla storica moglie, Eleonora Pedron, al momento felicemente impegnata in una romantica relazione con Tommy Vecchio. Nel cuore di Bianca, invece, sappiamo che cosa c'è, tanta sofferenza e dolore, come si evince dalle parole riversate sulle pagine di chi. Non so come commentare tutto questo, è stato come un fulmine a ciel sereno afferma la cantante e prosegue dicendo che è esploso tutto dalla sera alla mattina e per volontà di Max. Il centauro, dunque, l'avrebbe lasciata senza dare spiegazioni precise, un fatto davvero spiazzante per la ZEI, come si può cancellare una storia come la nostra? Si chiede. Per ora, non ha risposta, ma semplicemente la speranza che si tratti di un brutto sogno. Da cui svegliarsi presto insieme al suo Max. Per ora, non ha risposta, ma semplicemente la speranza che si tratti di un brutto sogno.